Va verso la conclusione su questo risultato, con questa parità, frutto di una partita vivace sì, ma abbastanza equilibrata col cordone, certamente che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più. Adesso un tentativo di Zanellato, il pallone al centro dell'area di rigore, non c'è nessuno pronto all'appuntamento, termina sul fondo. E dunque va Terracciana a recuperare il pallone, a rinviare lungo. 46 e 20, 40 secondi alla fine del secondo dei due minuti di recupero e si andrà avanti ancora per un po'. Linea a Milano. Scusa Barchiesi, soltanto per dare il finale della partita giocata a Lezio Scida di Crotone. Crotone e Fiorentina hanno chiuso sullo 0-0, Crotone e retrocesso, Fiorentina salva. Te. Grazie.